E' tornata Tecnix con due nuovi modelli di giradischi. Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ sono Claude, andiamo a vedere questi due nuovi modelli per quel che riguarda il colosso Tecnix. Ah sì, Tecnix è sinonimo di DJ da sempre, soprattutto per quello che riguarda il vinile. Tecnix aggiunge due nuovi modelli di giradischi, l'SL100C ed il 1200 MK7S. In realtà questo non è proprio nuovo, però andiamo a vedere. Partiamo subito dall'SL100C che è la vera grossa novità in casa Tecnix. Lo vediamo qua, viene promosso a basso costo perché secondo loro è conveniente, ma la realtà è che questo nuovo giradischi dovrebbe costare intorno agli 899 euro. Che cosa c'è che salta subito all'occhio? Come vedete qua manca il fader. Siamo su un canale frequentato molto da DJ e producer e la mancanza totale del pitch control lo rende subito attrezzatura per amanti dell'audio ad alta fedeltà, non attrezzatura da DJ. Sappiamo già che Tecnix si sta muovendo pesantemente nel mercato Hi-Fi, lo sappiamo tutto questo da anni, e hanno persino realizzato l'SC1500C leggermente più bello nel 2019 che allo stesso modo mancava di questo fader di tonalità, quindi non è il primo ad avere la mancanza del pitch control, ma è stato comunque ben accolto dal mercato delle Hi-Fi e audiofilo, un po' meno da quello dei DJ, soprattutto quelli della vecchia guardia che vedendo un Tecnix senza pitch gli arriva un colpo al cuore, diciamoci la verità. L'SL100, andiamo a vedere le caratteristiche, ancora il motore coreless senza nucleo in ferro a trasmissione diretta degli altri modelli SL più recenti, un braccio classica a forma di S, in isolante insonorizzante e a questo modello manca lo stadio Fono e come l'altro modello della serie C, gli manca il fader della tonalità come abbiamo visto. La costruzione è di alta qualità, alta rigidità, isolante ad alto smorzamento che manterrà a bada le vibrazioni di fascia bassa, nonché un design a due strati in gomma e alluminio. Sollevamento automatico del braccio ridurrà anche l'usura dello stilo, in generale ci semplificherà la vita. Viene fornito con una cartuccia audio tecnica VM95C con puntina conica. A differenziare questo 100C dal 1500C sono l'assenza dello stadio Fono, come detto, e la testina che sul prodotto di fascia più alta è una Ortofon 2M Red. Mossa di marketing da parte di Tecnis, in questo caso ha trovato un modo un po' di mescolare le cose, togli di qua, metti di là altre cose, vendendo il giradischi come un modello per audiofili economico, nonostante costi più di 100 euro rispetto al giradischi quello per DJ. Infatti, infatti, arriviamo al secondo giradischi che è quello che ci interessa maggiormente essendo DJ, anche se questo è di tutto rispetto, e apriamo questa parentesi sul Tecnis 1200MK7S. È un modello che eredita le funzioni e i comandi del 1200MK7 che è stato introdotto a gennaio 2019 in versione nera. Dalla versione nera abbiamo lo stesso motore a trazione diretta, il piatto a doppio strato e lo stesso tipo di braccio. Il 1200MK7 è inoltre dotato di regolazione della coppia di avviamento veloce di frenata, del controllo della rotazione e della funzione di riproduzione invertita. L'illuminatore a led della puntina assicura un'elevata luminosità e una lunga durata. Uscita prevista maggio 2021, prezzo 999,99 euro. Mutsuo Sekihara, product manager di Tecnis Italia, dice che nell'ultimo decennio abbiamo ricevuto vari appelli da DJ, organizzatori di eventi musicali e nostri partner commerciali per l'ampiamento della nostra gamma giradischi e inoltre abbiamo ricevuto moltissime richieste per una versione argento di questo iconico giradischi per DJ. Prima scelta di molti appassionati in tutto il mondo. In realtà questo 1200 è come il 1200 classico argento e il 1210 era la versione nera che uscì dopo. Bene, torniamo all'SL100 che sarà ben accolto da un mercato di audiofili che è un mondo completamente diverso da quello dei DJ. Si sa che gli audiofili malati di hi-fi a chi piace sentire la musica perfettamente in casa hanno una priorità e budget completamente diversi rispetto ai DJ ed è affascinante vedere che questo marchio un tempo incentrato sui DJ si sia davvero spostato in termini di dove si spende di più. Anche per il fatto che gran parte del DJ hanno abbandonato da tempo i giradischi. Sistema time code a parte per il problema della reperibilità dei vinili ed anche dei costi degli stessi. Sì, perché i vinili costavano e costano parecchio rispetto agli MP3, sempre con tutti i pro e contro del caso. L'SL100 dovrebbe essere rilasciato a partire da giugno 2021 e se stai cercando un giradischi davvero davvero bello su cui ascoltare dischi mettertelo lì in salotto o in camera ma non mixare mai questo potrebbe essere esattamente quello che fa per te. Anche l'estetica generale non è male, molto elegante vantando di un minimalismo che starà benissimo in qualsiasi ambiente. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, se vi interessa di più questo SL100 da ascolto che costa circa 100 euro meno o la versione silver del Tecnis 1200 MK7. Corsi per DJ e corsi di produzione musicale potrete fare tutto con il sottoscritto online contattandomi alla sezione contact e compilando il form oppure nella pagina facebook che trovate all'interno di qualsiasi video di SOS4DJ troverete la pagina dove potete contattarmi, mi raccomando solo per coloro che vogliono fare corsi e lezioni private. Per tutto il resto ci sono i commenti di SOS4DJ. Troverete anche la pagina Instagram se volete potete seguirci e la pagina Telegram, la nostra community con tutto quello che riguarda SOS4DJ in anteprima. Canale YouTube mi raccomando l'iscrizione importantissima per noi ma anche per voi per poter crescere con tutto il nostro materiale gratis. Attivate la campanella, mettete un bel like e condividete questo video se pensate che possa essere utile ai vostri amici o ai vostri colleghi. Inoltre puoi sostenerci cliccando il tasto Paypal offrendosi tutto quello che vuoi. Non fa male, nessuno si farà del male cliccando questo tasto ma potrai aiutarci ad essere dei nostri e riconoscere tutti i nostri sforzi gratis verso di voi. Tecnis colpisce ancora, si sa, Tecnis è il marchio numero uno da sempre riconosciuto come il top gamma per quel che riguarda i DJ e il vinile anche se insomma ci sono subentrate molte altre marche nel mercato che adesso sono valide. Però si sa che il primo amore non si scorda mai. Adesso questi due nuovi modelli, uno per audiofili e uno per DJ diciamo richiamando la colorazione argento del 1210 MK7 che era nera, invece stavolta ce l'abbiamo argento. Fatemi sapere quale dei due vi potrebbe interessare o se vi tenete i vostri o se ci state facendo un pensierino. Bene da parte di SOS4DJ vi ricordo l'iscrizione al canale importantissima, una buona giornata e vi ricordo che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio.